Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Il mondo si sta cambiando È entrato in camerino Le foreste scomparendo È una partita a nascondino Benvenuti a una nuova puntata Abbiamo ospite una band Abbiamo due membri della band Capabro A questo punto la prima domanda Sorge spontanea Se dovessete scrivere A chi non vi conosce Chi sono i Capabro? Allora, i Capabro sono una band Che attiva sul territorio marchigiano Da una decina d'anni È partita con l'idea di fare musica originale Brani propri Impostati sempre sul divertimento Ovvero sulla sdrammatizzazione degli eventi della vita quotidiana Si cercava sempre di vedere il bello Il meglio della faccenda Ovvero dalle situazioni tragiche si rendevano tragicomiche Questo accompagnato una musica che è sempre ballabile Divertente E comunque spensierata Anche questo a forte contrasto con i temi trattati Anche impegnati Quindi si è deciso di fare le cose in maniera seria Sin da subito Ma mai seriosa Ecco, questo era l'intento dichiarato della band Poi in questi dieci anni sono successe diverse vicissitudini Sono cambiati parecchi musicisti Lo stesso Alessandro che è qui presente con noi Non è entrato subito a far parte della band Ma dopo tre o quattro anni di attività E adesso i Capabro sono un gruppo che va verso la maturità Quindi anche qui stanno cambiando diverse cose Diversi cambiamenti sono in atto dalla prima fase Chiaramente molti ve l'hanno chiesto Come mai questo nome? Semplicemente è un acronimo Quindi sono le iniziali dei cognomi dei membri fondatori della band E a questo punto parliamo dell'ultimo singolo Camilla Quando nasce questo brano della cosa tra ispirazioni Qual è l'obiettivo che è stato raggiunto Poi ottenere il risultato finale Che è questo lavoro Perché ha portato dietro un lavoro comunque complesso O semplice Allora guarda Camilla è un brano che nasce nel 2021 Nella mia cameretta da letto Quando ancora vivevo con i miei genitori È un brano che nasce in piena pandemia E che ha vissuto diversi cambiamenti Ovviamente esce nel 2024 Quindi tre anni dopo Quindi ha vissuto diverse mutazioni Alcune trasformazioni e diversi cambiamenti Il cambiamento in realtà è anche un po' la parola chiave Di questo brano Perché si parla di cambiamento climatico Si parla di cambiamento nelle relazioni Cambiamento nelle amicizie Cambiamento nelle modalità di discussione Di comportamento Di dibattito Quindi ecco forse la parola cambiamento È un po' la chiave di lettura Che gira intorno a tutto questo brano È stato un lavoro diciamo Abbastanza complesso Perché in realtà siamo complessi noi Come band e come persone in principio Quindi noi ci complichiamo la vita In maniera molto facile E quindi non è mai scontato Semplice arrivare ad una conclusione Per qualsiasi cosa per noi Quindi di conseguenza Anche riuscire a fare un singolo O un disco O una produzione di qualsiasi tipo Ci impiega diverso tempo E non è mai un percorso Un percorso senza ostacoli Questo singolo è un singolo Che viene dopo tre anni Di silenzio discografico Da parte dei caporogbi Interrompe un silenzio Che durava da settembre 2021 Per quello che riguarda la parte Appunto dicevo discografica Perché poi Per quanto riguarda i live I concerti abbiamo sempre mantenuto Una costanza Una presenza Nel territorio regionale Ma anche nazionale Ed è un singolo Che anteciperà Come ci chiedevi tu prima Un disco Un album Che sarà in uscita Per l'estate e autunno Di quest'anno Quindi tra settembre Ottobre 2024 Continuando su questo disco Questa copertina Con in realtà la terra Questo prato Dove questa camilla Teoricamente questa camilla Riposa Ma con occhio In una terra Che si vede un po' mista Sì diciamo Come ti dicevo prima Il cambiamento È un po' la parola chiave Di questo brano E principalmente Si parla di cambiamento climatico Principalmente Quindi diciamo Che Camilla La protagonista Di questa canzone È una ragazza Nella cui semplicità Nella cui bellezza Nella cui tranquillità Sfociano in realtà Tantissime problematiche Tantissime circostanze Che stanno capitando Quotidianamente Intorno a noi Quindi La terra Che brucia dietro Che sta andando a pezzi È un po' Il declino Che racconta Questo brano E la Camilla Distesa sul prato E rappresenta un po' La tranquillità La semplicità Con cui questa ragazza Affronta Tutto questo dramma Tutto questo Questo caos Che c'è intorno a lei Nella sua vita E lo sdrammatizza Semplicemente Continuando a ballare A sorridere A muoversi E a cantare Come raccontiamo Nel brano E Allora Per quanto riguarda Le reazioni Delle musiche Nasce prima Un riff Un beat Oppure Nasce prima Prima parole Oppure possiamo dire Accidentalmente O casualmente Nascono insieme Nel caso vostro Nella produzione vostra Guarda Qui ti rispondo io Per una parte E poi lascio La parola a Diego Perché io e Diego Siamo Due membri Che principalmente Si occupano Della composizione E credo Che abbiamo Anche dei modi Di lavorare Di lavorare Un po' Diversi Nella creazione Intanto diciamo Che Il momento creativo L'ispirazione La famosa luce creativa È diversa In ognuno di noi E si manifesta In momenti diversi E la vita E delle giornate Io principalmente Difficilmente Scrivo un testo Prima della musica E la musica Prima di un testo Io solitamente Faccio tutto Quanto insieme Quindi mi metto Davanti La chitarra O davanti La mia tastiera Distrutta Della mia Della mia cameretta Inizio a suonare Un po' O magari un riff Che mi gira Nella testa Pure delle parole È un tema Di cui voglio parlare Inizio un po' Ad improvvisare A buttare giù Delle parole Non dico casuali Però Tutto quello Che mi viene Quasi come fosse Un flusso di coscienza Me lo sparo davanti E poi Cerco di Dare una sistemata E poi presentare Quella che è La prima Di tante bozze Agli altri ragazzi Del gruppo Poi Diego Sicuramente Avrà Avrà un altro metodo No? Per quanto mi riguarda Diciamo che la maggior parte Delle cellule musicali E anche a volte Sì Delle parole Del testo Mi vengono in mente In macchina Mentre sono in macchina Oppure mentre sono in situazioni Della vita quotidiana E quindi Magari mi registro Una cellula Un pezzetto Che poi vado A sviluppare Però spesso Per quanto riguarda I brani Vado a scrivere Prima Il testo Quindi magari Poi vado Ad abbinare Questa serie Di cellule Melodiche Che ho Con i vari testi E vedo Se si incastrano Bene Ecco Di solito Faccio così Però Ecco Poi ogni volta Diciamo È un'esperienza Sempre diverso Come Ti diranno Tutti quelli Che scrivono musica Poi Perché Non è mai Una cosa Così Metodica E sistematica Parlando dal vivo Voi avete suonato Tante volte Tanti palchi Avete soltato E oltre che Se avete vinto Nel 2016 Rocketer Dato Italia Che cosa rimane Di quella vittoria E che cosa Va portato in più Nel tempo Quella vittoria Allora Era un periodo In generale Dal 2014 Dal 2016 17 In cui facevamo Una marea Di concorsi In giro per l'Italia E quindi Eravamo praticamente Sempre in giro Ma Non ricordo Di essere mai Stato a casa In quel periodo Forse per dormire Ogni tanto Molti ne facevamo Addirittura A rimborso spese Qualcuno Addirittura Ci investivamo Noi Ci prendevamo Da dormire In giro Quindi era veramente Un investimento In perdita Però Alla fine Ti devo dire Che dopo Tutti questi concorsi Tutte queste esperienze Poi c'è stato Negli anni a seguire Un grande ritorno Anche a livello Sia di immagine del gruppo Ma anche a livello Proprio personale Di arricchimento personale Perché tante esperienze Poi ci sono tornate indietro Qualcuno che ci richiamava A suonare nei vari posti Insomma Abbiamo Si è creata una rete Abbastanza interessante Che è una rete Di persone vive Cioè dal vivo Più che altro Noi la nostra musica L'abbiamo portata Dal vivo Davanti alle persone Ci è mancata Forse un po' La fase Social Quello sì Non siamo Ancora un gruppo Che sui social È forte Ma che ha una forte Impronta Umana Ecco Invece Suonare dal vivo Quella sensazione Che provate Perché la prima volta Non si scorda mai Ma bene o male Salire sulla prima volta Comunque tuttora Salire sul palco E quando qui si apre La quarta platea Il pubblico Voi comunque Siete concentrati Dovete essere Comunque Inizialmente Pensate a suonare Però sentite Quell'energia Che comunque Il pubblico Vi trasmette Che poi Voi vi trasmettete La vostra energia Con Le canzoni Qual è quella Sensazione Che in quel momento Provate Oppure Non c'è Emozione No Emozione Emozione C'è sempre Ecco Non è che siamo Totalmente Appatici E allergici Ad ogni Ad ogni emozione Devo dire Che Dopo tantissimi Anni Di esperienza Dopo tantissimi Concerti Perché credo Che abbiamo Superato abbondantemente I 400 Concerti Posso dire Che non ci fa più Paura nulla Nel senso Che siamo Svezzati E abbiamo Preso Tutte le porte In faccia Che potevamo Prendere E ci siamo Anche tolte Diverse soddisfazioni Quindi diciamo Che arriviamo Sul palco Molto Molto Preparati Ed ogni volta Comunque Però È una Nuova sfida Perché Chi ha visto I nostri concerti Chi segue I nostri spettacoli Chi ci conosce Un po' Sa Sa Che Difficilmente Se vedi I Capabro Il venerdì Sera E torni A vederli Il giorno Dopo Vedrai Lo stesso Concerto La maggior parte Le volte Vedrai Delle cose Diverse Perché A noi Comunque I brani Sono quelli Ma Ci piace Molto Interfacciarci Con il pubblico Interloquire Fra di noi Scambiare Battute Quindi Ogni volta Cerchiamo Di dare Un po' Brio E novità In primis A noi stessi E poi Anche al pubblico Questa forse Un po' Ecco L'emozione Il brivido Della novità Di non sapere Cosa magari Diego sta per dire Al microfono Cosa sto per dire Io Cosa sta per dire Giorgio O addirittura Che pubblico Ci dovremmo davanti Perché noi Comunque Cerchiamo Di interagire Molto Con il pubblico E di renderlo Partecipe Quindi forse Ecco Quello Che c'è Per me Principalmente Insomma È Il brivido Di non sapere Cosa Cosa succederà In quell'ora e quarto Quell'ora e mezza Di concerto Se ti riferivi Prima Ad ansia Oppure Preoccupazioni Oppure Agitazione Su questo Mi sento Di dire Che noi siamo Ormai Tranquillissimi In ogni In ogni situazione Che ci si comporta davanti Anche le più scomode E anche se posso aggiungere Poi vedere Come reagisce A quello che facciamo Il pubblico Perché poi ogni volta La risposta È chiaramente Differente A seconda di quella Che è la situazione A seconda di quello Che è il pubblico Di che età Quindi ogni volta Sai quello che fai Non sai quello Che fanno gli altri Sul palco Quindi quello Devi essere preparato Ad affrontarlo Ma a maggior ragione Non sai Come poi Risponderà Il pubblico E quindi ogni volta È un'emozione nuova Questo chiaramente Sì E invece poi Scendendo dal palco Chiaramente Incontrate le persone Che vi hanno ascoltato Che hanno dedicato Un'ora Un'ora e mezza Due Solo per voi A quel punto Che vi guardano Li vedete rilassati Contenti Cioè Con quella faccia Perché a volte Non dicono nulla Oppure chiedono Un autografo Senti Però Non parlano Però Voi vedete Quelle facce Che vi dicono Forse abbiamo fatto Qualcosa di buono Perché comunque In quel momento Allora Qual è la vostra Reazione E sensazione Ma io ti posso dire Che credo poi Anche qua Credo che ognuno La viva in maniera diversa Io ti posso dire Quello che penso io Penso che questo gruppo Per le persone Che lo guardano Dal vivo Non lascia indifferenti Quindi O ti facciamo cagare Passami il termine Oppure Ti piace molto E ti diverte Quindi non credo Che noi lasciamo Una sensazione Di Ma Chissà Cosa ho visto Non credo Che siamo un gruppo Di passaggio In cui uno si ferma Cinque minuti E poi E poi Se ne va Quindi diciamo Che è finito Un concerto O qualcuno Ci dice Che facciamo schifo Ci aspetta E ci dice Che abbiamo fatto Malissimo E siamo il peggior Gruppo della storia Oppure Trovi le persone Che ti dicono Che invece sei Il miglior gruppo Della storia E qui magari Che poi Ti comprano Una maglietta I dischi Non vanno più Di moda Quindi non si Comprano più Però si portano A casa Un ricordo Ti seguono Sui social Ti seguono In giro Poi per le prossime date Quindi Questo comunque Capita Ed è una bella Sensazione Perché vuol dire Che Hai fatto Un bello spettacolo E quello che volevi Far passare Sei riuscito A farlo passare E invece poi La lista Dei personaggi Che comunque Avete suonato Probabilmente In apertura Ma Io ho alcuni Perché La lista è enorme Però Io citerei Meganoidi Piotta Irene Grandi Ma poi La lista è lunga Cristicchi Cioè Cosa vi rimane Avere Di questi personaggi Che cosa Eventualmente Se vi hanno detto Qualcosa in particolare O consigli Se ci sono Perché a volte Qualche artista Può dare Sì Allora Noi poi Specialmente Nelle fasi iniziali Della nostra carriera In cui eravamo Un po' più inesperti Confrontarci Con questi mostri sacri Faceva sempre Un po' di impressione E quindi Noi per Diciamo un po' Allentare la tensione O forse Caricarcene ancora di più Solevamo fare una cosa Ovvero Che prima del concerto Del grande artista Fare una Un tributo Diciamo quindi Cantare un pezzo Della canzone più celebre Dell'artista Prima di lui È capitato una volta Che eravamo in Toscana Appunto con Con Cristicchi Che lui si stava preparando A salire sul palco Ha ascoltato Mi sembra facessimo Vorrei cantare Come piace Antonacci Ha ascoltato La canzone E È rimasto Piacevolmente sorpreso Si è messo le mani Tra i capelli E ha cominciato a ballare Dietro il palco Insomma È una cosa Molto divertente Poi tra l'altro A fine serata Abbiamo proprio Fatto serata Con lui Sono emozioni Che vivi Capito Di rato Però sono cose Che ti lasciano Dei bellissimi ricordi Perché poi questi qua Sono gente Adesso vabbè Hai citato Anche Rita Pavone C'è un mostro Proprio L'abbiamo vista già Comunque Anziana Ballare Scatenata Una cosa Che non Che non Sembra possibile Però Ti danno tanto Anche a livello Motivazionale Ti danno tanto Queste esperienze Una curiosità Dei meganoidi Avete Quanto Meganoidi Sì Sembra Supereroi Contro La Municipale Se non erro No Abbiamo fatto Z reticoli È vero Non ricorda Z reticoli Ma forse Due volte Però abbiamo Suonato Quei meganoidi Se non sbaglio Forse anche tre Allora Forse Entrambe Probabilmente Anche Meganoidi Sono stati Ospiti No Trick Ci sono Qualche artista In cui Oltre a quelli Che avete Suonato Perché La lista Abbiamo detto Che è lunga Che un pochettino Musicalmente Anche Involontariamente A forza di Sentirli Un pochettino Nel modo Di pensare O comunque Di suonare O di impostare La musica Ve lo portate Dietro? Non so Allora Nello specifico Qualche artista Di riferimento Ce l'abbiamo Però Poi Sono A parte Che sono Cambiati Nel corso Degli anni Ma non ci Ispiriamo In particolare A qualcuno Diciamo che Poi tra l'altro Siamo tre persone Che ascoltano Anche musica Diversa Per quanto Tutti e tre Spaziamo molto Però non c'è Un artista Di riferimento Ascoltiamo Tutto quello Che ci capita Siamo Dei Fagocitatori Che poi Questo influisce Anche Nel processo Creativo Di cui Parlavamo Prima Perché Insomma Avere Tanti Ascolti Anche Diversi Fra I tre Permette Poi Di mettere Insieme Quello Che è Il risultato Dell'elaborazione Di quello Che hai appreso Ascoltando E ispirandoti A degli artisti Di artisti Differenti Quindi Se magari Quattro anni fa Veniva a ascoltare I Capapro E la proposta Era di un certo tipo Con certe influenze Se l'ascolti oggi Non è Non è quello Se lo ascolterei domani Non sarà di nuovo Quello che hai ascoltato ieri Quindi Diciamo che Le influenze Non c'è un'influenza Precisa Ma Ci sono tante cose Tante Micro Contaminazioni Di 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 artisti Artiste Che ascoltiamo Quotidianamente Venendo la maglietta Non c'entra niente Michele Pecola No La tua maglietta No Non c'entra nulla Michele Pecola Però Zucchero Ci raccopiare Anche Michele Pecola Salutiamo Michele Pecola Ciao Ma Anche con lui Abbiamo fatto Abbiamo fatto un'esperienza Anche con lui Poi al premio Ravera Qualche anno fa E a questo punto Progetti futuri Oltre che appunto Abbiamo detto Eminente La uscita Poi Dell'album Che uscirà Soltanto in digitale E poi in formato fisico Anche Ma questo Dobbiamo ancora deciderlo Dobbiamo ancora deciderlo Io Non sono molto più per il formato Per il formato fisico Onestamente Perché Gli spazi E anche le modalità Di fruizione della musica Sono un po' cambiati Magari ne faremo Ne faremo Una tiratura limitata Magari Questo non lo so Dobbiamo ancora deciderlo Però ecco Pensare A grandi Tra virgolette Distribuzioni Di prodotto Di prodotto fisico Mi sembra Ora un po' Impensabile E purtroppo Una vecchia Una vecchia modalità Progetti futuri C'è appunto L'uscita di questo disco Che sarà fra settembre Ottobre Di cui poi Ne conseguirà anche Un tour Che toccherà Le principali città italiane In tutta Italia E ci sarà anche Un tour estivo In cui presenteremo Appunto Camilla Il singolo Appena uscito Appena uscito Appena uscito Che partirà Venerdì Dal lago Di Cingoli Dalla baglia Di Popeia Al Covaleno Beach Proseguirà Per tutta l'estate Il lungo e il largo Per le marche E non solo A questo punto Mangano solo Due cose fondamentali La vostra pecca Che sono Gli indirizzi E non di casa Ma gli indirizzi Social Dove potervi raggiungere E I saluti finali Chi vuole parlare? Sui social Ci trovate Ci trovate Un po' No Volevo lasciarla a Diego Perché ho parlato Un po' più io Però va bene Sui social Ci trovate Un po' Un po' Ovunque Ci trovate Dai classici Instagram E TikTok Ai più arretrati Facebook Ci trovate Su tutte le piattaforme Streaming Quindi da Spotify Apple Music Amazon Music YouTube Chi più ne ha Più ne metta Ci troverete In più palchi Possibili Ovunque In più feste possibili In cui possiate trovarvi Quindi ci troverete Non solo In foto In video Ma ci troverete Anche in carne ed ossa In giro In giro Quest'estate Questo autunno Questo inverno La prossima primavera Sempre Quindi questi sono i modi In cui ci potete Trovare Contattare E stalkerare Senza rischiarvi Una denuncia Da parte nostra Niente Come saluti Io ti ringrazio Vi ringrazio Per lo spazio Insomma Per noi è importante Poter avere un luogo Dove poterci esprimere E raccontarci Per arrivare a più A una fetta più ampia Di pubblico Possibile Poter presentare Questo singolo Che per noi È un grande passo Perché segna Un po' Una linea Che si separa Dal passato Di Capapro E che punta forte Verso Verso il futuro Con una produzione Un po' più Moderna Più innovativa E con delle tematiche Attuali Che vengono presentate Sempre in maniera Molto ironica Ma in maniera Diversa dal passato Quindi ecco È molto importante Per noi avere Questi spazi Queste disponibilità Quindi ti ringrazio Da parte mia Da parte di Diego E anche da parte di Giorgio Che è bloccato Bloccato al lavoro Quindi grazie Visto che ci sei Fai anche tu i saluti Visto che sei stato L'inerte Sono stato Io vi ringrazio Anche Anch'io Per l'ospitalità E per lo spazio Che ci avete concesso I saluti Di rito Faccio i soliti saluti Quindi Namaste Poi che altro Non so Non conosco Altre Altre lingue Aufidersen E quant'altro Insomma Ok Grazie mille Dai Capabro Un bacio E ci vediamo presto Su tutti gli schermi Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Il mondo si sta cambiando È entrato in camerino Le foreste scomparendo È una partita a nascondino Grazie mille